Il nostro però particolare impegno è quello di aumentare sempre di più quello che è il concetto della sicurezza. Come si fa a aumentare questo? Facendo ancora di più ulteriori controlli. Dopo, voi sapete, qualcuno ci ha scritto, qualche utente ci segnala, ma noi a fronte di questo riscontriamo tutte le segnalazioni di coloro che hanno qualsiasi e particolare dubbio. Particolari in questo periodo tutte le verifiche e le ulteriori verifiche che abbiamo fatte e che stiamo continuando a fare. In questo periodo invece ci sono canterizzazioni molto più impegnative, proprio perché c'è una concentrazione di attività di manutenzione ordinaria ricorrente, perché è normale che sia in questo periodo l'estate abbiamo la possibilità, cerchiamo di rallentare queste attività, non perché non vengono fatte, ma per dare più fluidità al traffico. In questo momento il traffico è più basso e ci consente di fare ulteriori lavori di manutenzione. Questo non significa che non facciamo le attività, non vengono fatte le attività a discapito di quello che sono la sicurezza. La sicurezza è sempre garantita, sono tre province su quattro che intervengono, che insistono sulla nostra pertinenza. In particolare, come tutti sanno, il viadotto Salinello, che anche da un punto di vista ingegneristico è bello da vedere, che costeggia il mare Adriatico, è 1.500 metri di lunghezza, 37 campate. Noi, su questo vi posso dire, qualcuno ha segnalato proprio un'attività molto veloce, molto rapida, che è stata fatta dopo il famoso 14 agosto. Quell'attività è sempre costante, ovviamente l'abbiamo notevolmente aumentata, ma perché? Perché mi sembra corretto fare così, mai abbassare la guardia. A brevissimo, su questo viadotto partiremo per lavorare su sei campate, che sono le campate più importanti che insistono nella strada di Fondovalle. Sta andando in gara un intervento molto importante di circa 4 milioni e mezzo per la manutenzione di tutti e 37 gli impalcati, le pile e i pulvini. Il resto, nella parte della provincia di Chiedi, ci sono tuttora in corso dei lavori, delle verifiche dinamiche, ma dei lavori particolari di manutenzione che insistono su 14 viadotti. Le nostre opere, benché importanti, qualcuna magari insiste in aree particolari dove l'assetto idrogeologico può influenzare tutto il resto. Su questo noi interveniamo non solo sulle opere, ma anche sull'infrastruttura in termini di situazioni oggettive tipo frane.